Buongiorno, benvenuti CGI Artist alla quattordicesima lezione di questo corso completo ed intensivo su Blender. Oggi andiamo a parlare di tre nuovi ed importanti argomenti in relazione a questo fantastico programma. Nelle lezioni precedenti abbiamo imparato, dopo aver scoperto i sigletti delle mesh, ciò che riguardava le curve, le superfici, le metaball, i testi, gli oggetti volumetrici, gli empty e le immagini di riferimento. Dato che di armature, lattici, light, light probes, camere, speakers e force field, ne parleremo nelle lezioni successive. Per la qualcosa abbiamo terminato di parlare di questi oggetti extra mesh, perché di quelli di cui non abbiamo parlato parleremo appunto in futuro. Oggi andremo a scoprire una nuova modalità di lavoro nella edit mode, nella viewport, la weight paint mode e andremo ad apprendere cosa significa vertex group e cosa significa ship key, come notiamo nel nostro pannello object data del pannello properties. Let's do it! Molto bene! Per cominciare andiamo a scoprire qual è il concetto di vertex group. Un vertex group, che vuol dire letteralmente gruppo di vertici, quindi che possiamo chiamare semplicemente gruppo di vertici, non è altri che appunto un insieme di determinati vertici che noi possiamo utilizzare all'interno di Blender per conferire al computer determinati comandi. In futuro vedremo le applicazioni pratiche di ciò. Oggi andremo a scoprire come lavorare e come creare vertex groups, cioè gruppi di vertici. Per creare un qualsiasi gruppo di vertici, basta premere il tasto più appunto nella voce vertex group e vi verrà creato un gruppo di vertici vuoto. Facendo doppio clic su di esso potrete rinominarlo, per esempio, adesso lo chiamerò faccia superiore. Potete creare un numero di gruppi di vertici potenzialmente illimitato. Per eliminare un gruppo di vertici che avete creato e non vi serviva, basta premerlo, basta selezionarlo e andare col tasti e andare a premere il tasto meno. Per spostare un gruppo di vertici in alto, basta premere la freccia verso l'alto. Per spostare un gruppo di vertici verso il basso, basta premere la freccia verso il basso. Ma come possiamo inserire dei vertici all'interno di un gruppo di vertici, dato che tutti essi di default sono vuoti? Per farlo dovete andare in una modalità della viewport tale da poter lavorare e da poter selezionare i singoli vertici. Questa modalità è la edit mode. Per entrarvi basta premere il tasto tabulatore. In edit mode potete selezionare e lavorare con i singoli vertici. Per le qual cosa potete andare a selezionare i vertici che volete inserire in un determinato gruppo, assicurarvi di avere quel gruppo selezionato all'interno del pannello properties e cliccare su assign. Adesso, cliccando su select, tutti i vertici facente parte di quel gruppo, cioè del gruppo che in questo momento avete selezionato, verranno selezionati. Cliccando su deselect, tutti i vertici facenti parte di quel gruppo di vertici verranno deselezionati. Mettiamo di inserire anche, se cliccate su un determinato vertice e premete assign, anche esso verrà inserito all'interno di quel gruppo di vertici. Perciò adesso, anche il vertice inferiore fa parte del gruppo di vertici faccia superiore. Infatti, se io premo select, mi viene selezionato anche questo vertice in basso. Per rimuovere un vertice da un gruppo di vertici, basta selezionarlo, assicurarsi di avere quel gruppo di vertici selezionato e premere remove. Adesso, se io per esempio premo deselect, quel vertice non verrà deselezionato, perché deselect deseleziona tutti i vertici di quel gruppo di vertici e noi, il vertice in basso, l'abbiamo appena rimosso dal gruppo faccia superiore. Infatti adesso, se io clicco select, mi vengono selezionati solo i vertici che sono ancora all'interno di faccia superiore. Se io seleziono i vertici della faccia inferiore, mi basta selezionare il gruppo di vertici faccia inferiore e assign per inserire quei vertici all'interno del gruppo di vertici faccia inferiore. Per esempio, con select posso selezionare i vertici della faccia inferiore e se invece seleziono faccia superiore, con select posso andare a selezionare i vertici anche della faccia superiore. Inoltre, posso anche selezionare con quanto peso, quindi con quanto weight in inglese, un vertice viene inserito all'interno di un gruppo di vertici. Per esempio, posso rimuovere questo vertice, prima lo posso rimuovere dalla faccia superiore, poi posso inserire uno weight di 0.5 e riassegnarlo. In questo modo, questo vertice sarà sì presente all'interno del gruppo faccia superiore, però il peso che avrà all'interno di questo gruppo sarà solo del 50%. Cioè, se io andassi a dire, come vedremo in futuro, al computer di, per esempio, andare a smussare tutti i vertici facenti parte del gruppo faccia superiore, beh, questo vertice mi verrebbe smussato a metà, perché il suo peso all'interno di faccia superiore è di appunto 0.5. Per la qualcosa, se io dico al computer di svolgere una trasformazione X su tutti i vertici di faccia superiore, il vertice che io ho inserito con un peso di 0.5, beh, subirà la trasformazione solo a metà. Ho appena eliminato tutti i gruppi di vertici. Molto bene. Che altro dire? Inoltre, un modo molto più avanzato per creare gruppi di vertici è un'altra modalità della Edit Mode, la Vertex Weight Paint. Per sperimentarla, aggiungiamo un piano, andiamo in Edit Mode e lo scaliamo di 5 volte, scalandolo in Edit Mode non avremo bisogno di applicare la scala. Se siamo sicuri di avere tutti i vertici selezionati, si, allora premiamo Subdivide e inseriamo un gran numero di suddivisioni, per esempio 100. E adesso abbiamo una griglia molto molto fita. Adesso dobbiamo andare a sperimentare una nuova modalità della Viewport, la Vertex Weight Paint Mode. Per navigare tra le modalità della Viewport potete premere Control Tab, oppure, non confondere con Shift Tab, che invece vi abilita gli Snap. Control Tab e Weight Paint Mode. In questo momento vedete che tutti i vostri vertici sono, vedete che tutto il vostro piano è di colore blu. Il colore blu segnala, attenzione, se un vertice è di colore blu, e in questo caso tutti i vertici sono di colore blu, significa che il peso assegnato a quel vertice è 0. Quando io vado ad usare i comandi all'interno di questa modalità, mi permettono di disegnare all'interno del mio piano. Tutti i vertici che io vado a colorare verranno inseriti all'interno di un gruppo di vertici, quello che io avevo selezionato, non ne avevo selezionato nessuno, così ne ha creato uno Blender e l'ha chiamato Group. Noi lo possiamo rinominare in Painting. Tutti i vertici che io vado a selezionare, a colorare anzi, verranno inseriti all'interno del gruppo Painting, in questo modo. Per cambiare le dimensioni del pennello potete premere il tasto F e possiamo colorare. abbiamo colorato tutto il piano. Cancelliamo in parte la colorazione, andiamo a Weight Paint, per esempio, creiamo un nuovo gruppo di vertici, lo chiamiamo Painting, di nuovo, perché l'altro l'abbiamo annullato con CTRL e Z e facciamo una piccola colorazione. Ora è importante capire che tutti i punti in cui il nostro piano è blu, che tutti i vertici colorati di blu, sono vertici che sono stati inseriti all'interno del nostro gruppo con valore 0 e che perciò non sono stati inseriti all'interno del nostro gruppo. Tutti i vertici blu non fanno parte del nostro gruppo di vertici. Infatti se lo seleziono e premo Select in Edit Mode, mi seleziona solo i vertici che erano colorati di qualche colore. Tuttavia anche i vertici colorati di qualche colore non sono colorati tutti dello stesso identico colore. Quelli perfettamente rossi sono stati inseriti in Painting con peso 1 e per la qualcosa se io vado ad applicare una trasformazione X a quei vertici, dando al computer come attributo il Painting e gli applicherà i vertici rossi con la trasformazione al massimo. Invece man mano che i vertici hanno un colore più lontano dal rosso, quindi il giallo, il verde o addirittura l'azzurro, per più i vertici hanno un colore lontano dal rosso e più il peso con il quale sono stati inseriti all'interno del gruppo di vertici Painting sarà basso. Perciò il valore Weight di questi vertici sarà sicuramente inferiore al valore Weight di questi vertici. Vi ricordo che il valore Weight andrà ad influenzare quanto verrà applicata la trasformazione nel momento in cui noi andremo ad utilizzare i gruppi di vertici come attributi. Vedremo come applicare i gruppi di vertici. Vedremo in realtà l'applicazione dei gruppi di vertici quali attributi, per esempio all'interno dei modificatori. Con Shift F potete regolare quanto è forte la potenza del vostro pennello. Più la strength sarà bassa, più i vertici che andrete a colorare avranno appunto uno Weight basso, per la qualcosa adesso dove io vado a colorare con una strength di .52, la potete vedere da qui, i vertici che voi andate a colorare si coloreranno di verde. Se voi però ripassate il colore andrete ad aumentare il Weight fino a farlo diventare per esempio rosso. Tuttavia questa è una strength che se io metto a zero non mi fa più funzionare il pennello. Io dal pannello Weight, alla voce Weight, posso regolare con quale Weight il computer mi va a applicare, perché di default il pennello mi va a colorare praticamente i miei vertici di rosso, cioè dove il pennello passa essi mi si colorano di rosso e il pennello andrà a colorare i vertici sempre di rosso anche abbassando la strength. L'unica differenza è che se io abbasso la strength il pennello è più debole e quindi non ce la fa a colorare completamente i vertici di rosso e così appaiono verdi, per esempio mentre la strength ha .3 e come vedete non mi si colorano di rosso perché il pennello è debole e perciò non riesce a colorarli di rosso. Se io ripasso il colore diventerà più vicino al rosso man mano che io lo ripasso. Andando in Edit Mode, cliccando su Select mi verranno selezionati tutti i vertici che hanno un qualsiasi Weight, anche se esso è molto basso. Tornando in Weight Paint Mode dobbiamo andare invece a capire che la strength, che di default il pennello andrà sempre a cercare di applicare un colore rosso, però con la strength bassa non ce la fa ad applicare un colore completamente rosso e così mi da un colore diciamo più lontano dalla tonalità rossa e più vicino al blu. Con il Weight invece io cambio proprio il colore, il colore che lui mi va ad applicare all'interno della mia, della mia, all'interno del mio piano. In particolare se io abbasso il Weight non è più una questione di il pennello è più debole e non ce la fa a colorarli di rosso. Con il Weight più basso, dovunque io vado ad applicare il mio pennello, beh lì la colorazione sarà quella dello Weight che io vado ad applicare. Quindi praticamente io adesso sto dicendo al computer, guarda dove passo il pennello, applica uno Weight di .63, indipendentemente dalla strength. In altre parole, cambiando il valore Weight io praticamente cambio il colore con cui il pennello dipinge, perché io ho questo pennello che mi va a dipingere il mio piano e cambiando il valore Weight io vado a cambiare essenzialmente il valore con cui il pennello dipinge. Cioè vado a cambiare di che colore il pennello sta dipingendo. Se io inserisco il Weight a 0, io vado a dire al mio pennello di dipingere di blu e praticamente ottengo una gomma. Se io invece vado ad inserire il mio Weight a .5, dico al pennello di dipingere di verde. Se io invece vado ad inserire, cancelliamo, il mio Weight ad 1, dico al pennello di colorare di rosso. Se io metto per esempio lo Weight a .5, adesso dovunque io passo il pennello, quello diventerà verde, anche passando sopra il rosso. Se io metto lo Weight a 0, dovunque io passo il pennello, il colore diventerà blu, anche sopra il verde o il rosso. Quindi praticamente con lo Weight io cambio il colore con cui il mio pennello dipinge. Ad esempio con .75 otterrò tipo un colore uguale al giallo. Quindi con Weight cambio il colore con cui il pennello dipinge. Totalmente. Invece, con, invece, se io metto la Strength, il Weight a 1, il pennello colorearsi di rosso. Tuttavia, abbassando la Strength, cambio la capacità del pennello di colorare di rosso. Quindi se io abbasso la Strength, cambio con quanta forza, abbasso, la forza che il pennello imprime nella sua azione di colorare di rosso. Per la qualcosa, il pennello continuerà a colorare di rosso, però sarà un po' più debole, quindi magari non ci riuscirà tanto bene e i suoi risultati saranno azzurronioli. Ok? Bene. Detto questo, potete vedere, dobbiamo introdurre adesso un altro menu all'interno del pannello Properties, che è la prima icona in alto, chiamata Active Tool. Quest'icona in alto, dove abbiamo praticamente due utensili, un cacciavite e una chiave inglese, ci va a dire essenzialmente quale pennello stiamo usando. Quando state utilizzando un pennello, Active Tool vi evidenzia quale pennello voi in questo momento state utilizzando. Detto proprio in parole povere. Qui avete, qui potete regolare in modo molto semplice le opzioni, anche da qui, potete andare a regolare le opzioni Weight, Ragio, che si regola con il tasto F, e Strength, che si regola con Shift F. Shift F è una shortcut che conoscono in pochi. Poi c'è anche il concetto di Fall Off, ve lo vado a spiegare subito. Clicchiamo per andare ad applicare una colorazione. Vi faccio notare che in ogni punto che io coloro, quindi sia nelle zone colorate di blu, che di rosso, che di giallo, beh, qualunque sia il colore con cui io vado a dipingere, in realtà la parte pitturata si troverà sempre più o meno all'interno del mio raggio d'azione del pennello. In altre parole, questo è il raggio, con questa linea rossa che voi potete ben vedere, è il raggio d'azione del mio pennello e la linea rossa mi va a dire quanto appunto è grande questo raggio d'azione. Sia le parti colorate di rosso, che le parti di giallo, che le parti di verde, che le parti di blu, che le parti colorate di azzurro, si troveranno sempre all'interno del mio raggio d'azione. La cosa che vi interessa è che nel punto, nel centro del mio raggio d'azione, quindi nel punto dove si trova esattamente il mio colore, al centro appunto di questo cerchio rosso, beh, in quel punto preciso il computer andrà a colorare di rosso. Man mano che ci allontaniamo dal centro del cerchio rosso, quindi di questo cerchietto che voi vedete in questo momento nella mia viewport e che indica le dimensioni del mio raggio d'azione. Bene, man mano che noi c'è nel centro, dove c'è effettivamente il mio colore, il computer andrà a dipingere di rosso. Man mano che ci allontaniamo dalla posizione precisa del mio colore, il colore della pittura diventerà sempre più lontano dal rosso, quindi diventerà prima un giallo, poi un verde, poi un azzurro e infine un scendio dal raggio d'azione diventerà proprio un blu. Vedete? Man mano che ci allontaniamo dal centro dell'applicazione della pittura, man mano che ci allontaniamo, il colore diventa sempre più distante dal rosso. In altre parole, il weight che il computer associa ai singoli vertici scende man mano che ci si allontana dal punto esatto in cui io sono andato ad applicare la mia colorazione. Ma in che modo cambia? Quindi questa decrescita del weight man mano che ci si allontana dal colore, in che modo si svolge? Beh, possiamo regolarlo a partire da questa curva, possiamo per esempio usare una curva costumizzata, oppure possiamo andare a scegliere alcune curve di default. Per esempio con l'opzione constant andando a colorare praticamente c'è qualcosa di molto meno sfumato, c'è un rosso che passa quasi subito al blu. Invece, scegliendo l'opzione sphere, clicco e il modo in cui si passa dal rosso al blu è perfettamente regolare, sempre, proprio come appunto una superficie sferica. sempre nell'opzione fall off. Per esempio, l'opzione, per esempio, c'è una grande uniformità utilizzando l'opzione sferica, invece la decrescita è perfettamente lineare e sottolineo proprio, sì, è perfettamente lineare, quindi la parte rossa è uguale alla parte blu che è uguale alla parte gialla che è uguale alla parte verde, usando appunto l'opzione linear. Con l'opzione linear ho la massima, ho una decrescita di perfettamente lineare. In altre, invece, questa è l'opzione di default che, beh, come potete vedere, io andando a cambiare la forma di questa curva posso andare a cambiare il modo in cui si passa dal rosso al blu man mano che ci si allontana dal centro esatto dell'applicazione del mio pennello, dell'applicazione del mio effetto. Per esempio, posso prima dire al computer che deve scendere, poi che il colore deve salire un po', poi che deve scendere di nuovo, poi deve salire tanto, posso andare a regolare una curva del genere e andando a disegnare vedo un effetto molto particolare, no? praticamente posso stare con una curva queste opzioni, vedete? Perché io gli ho detto che, in questo punto, gli ho detto praticamente in che modo deve decrescere il weight che io applico man mano che ci si allontana dal cursore e dicendogli che la decrescita deve essere irregolare, ho parti quasi rosse anche lontano dal cursore e allo stesso modo ho parti quasi blu anche vicino. Perché? Perché gli ho detto che deve essere una decrescita irregolare come questa. vi consiglio di fare delle prove, quindi appunto andate a vedere come cambia il risultato del vostro lavoro andando a modificare queste opzioni. per esempio questo è un risultato ottenuto con l'opzione linear cancelliamo mentre questo è un risultato ottenuto con l'opzione constant quindi andiamo constant vedete ci sono tantissime diverse opzioni, io vi consiglio personalmente di sperimentarle cioè vedete come cambia il risultato andando a modificare il vostro falloff comunque sia, ricapitolando, quando voi siete in opzione draw nel punto esatto in cui applicate il vostro effetto il computer andrà a colorare di rosso man mano che ci si allontana il colore si avvicinerà sempre di più al blu con quali modalità? quindi seguendo quali modalità il colore dovrà andare a spostarsi verso il blu? beh, per decidere quali modalità esso seguirà dovete andare a utilizzare le opzioni falloff che possono influenzare il vostro risultato ricordatevi sempre che questo è solo un modo molto avanzato per la creazione di gruppi divertici ricordatevi, questo è solo un modo veramente molto 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 avanzato per creare gruppi divertici ma non è un modo per dipingere la vostra superficie per creare effetti artistici lo scopo di questo è effettivamente attribuire un valore uno weight quindi lo scopo ultimo che ha tutto ciò è l'attribuzione di un valore numerico da 0 ad 1 a ogni singolo vertice che il computer utilizzerà a sua volta che il computer utilizzerà da sé per il calcolo di per appunto l'assegnazione dei vertici all'interno di un determinato gruppo appunto di vertici quindi ricordatevi che comunque sia quei colori rappresentano il valore weight dei vertici facenti parte del gruppo di vertici non rappresentano un effetto artistico per usare il painting come arte quindi per poter dipingere come vi pare sulla superficie del vostro oggetto creando effetti interessanti ed intriganti quindi se volete avere strumenti simili per creare un materiale di un oggetto dovete usare il texture paint però quello lo vedremo in una lezione futura torniamo nel weight paint vediamo che abbiamo altri modalità interessanti da scoprire relative a questo strumento per esempio immaginiamo di applicare un disegno come questo bene il blur è uno strumento che trovate nella toolbar del weight paint che va a sfuocare i contorni quindi in effetti ad applicare un blur ai contorni delle vostre pennellate quindi in altre parole va a rendere più graduale il passaggio da un determinato fattore da un determinato weight a un altro in altre parole va a aumentare la sfocatura per essere proprio precisi può essere molto utile ricordatevi che in inglese questo è sicuramente molto importante blur vuol dire appunto sfocato ed è un termine che troveremo anche in futuro per esempio impareremo in in lezioni future ad applicare una sfocatura ad un'immagine usando blender mediante il compositing e questa sfumatura la applicheremo attraverso un nodo chiamato appunto blur cos'è un nodo? è un pannello da inserire in uno spazio 2D ma il concetto di nodo lo impareremo appunto con i materiali comunque è solo per dirvi che il fatto che blur significa sfocatura non è qualcosa che si limita al al white paint poi abbiamo altre opzioni interessanti come per esempio average che apporta delle modifiche al colore esistente praticamente me lo mi va a rimescolare i colori si è un po' un rimescolatore ecco proviamo lo smear che praticamente mi spalma i colori e questi colori sono sempre valori numerici ed è questo che rende interessante il white paint potete lavorare con i colori numerici come in una tavolozza lo smear praticamente me li spalma mi muove i colori me li trascina con average li posso rimescolare average in altre parole mi fa un'azione di rimescolo dei colori mentre smear mi fa un'azione di trascinamento dei colori tuttavia io le opzioni average e smear non le ho usate tanto all'interno del mio percorso di blender trovo sinceramente molto cioè quando vado in weight paint utilizzo quasi sempre le opzioni draw e gradient a proposito andiamo adesso a parlare di gradient intanto mettiamo ranceliamo tutto quello che abbiamo fatto gradient semplicemente vi permette di creare un gradiente cioè io posso intanto dovete inserire un weight il peso con cui va a disegnare che era zero ma in altre parole io con gradient posso creare disegni di questo genere cioè io posso cliccare trascinare e blender mi crea appunto un gradiente se lo faccio da una parte interna della mia mesh automaticamente blender mi andrà a posso andare anche nel pannello in basso e cambiare da linear a radial in questo modo automaticamente blender mi andrà a creare un disegno sempre gradiente ma radiale quindi appunto gradient si può essere in due modi o selezionate tipo uno spigolo della mesh trascinate e blender ubica un gradiente oppure selezionate una parte interna della mesh trascinate e andate nel pannello in basso e passate da linear a radial e blender vi crea una una rappresentazione sferica molto molto utile io sinceramente la davo molto utile per finire abbiamo il comando simple weight per andarlo a spiegare ho bisogno di una colorazione un pochino più complessa di questa di questo piano qualcosa del genere bene simple weight mi da questa possibilità posso cliccare in una qualsiasi parte del piano che sto dipingendo e poi quando vado a tornare in modalità draw il computer mi andrà ad impostare il weight a un peso uguale rispetto al peso che aveva la parte di piano dove sono andato a selezionare per esempio se io vado a selezionare questa parte di piano ho appena cliccato vado in draw e adesso nello weight ho .360 cioè lo weight che si trova in questa parte della mesh cioè in questa parte dove sono andato a cliccare infine il comando annotate lo conosciamo fin troppo bene un appunto per chi vuole approfondire un pochino di più qui nell'opzione blend nel pannello active tool avete tutta una serie di opzioni di default c'è l'opzione mix che funziona più o meno così io vado a colorare con un colore una parte della mia mesh di default se io vado poi a praticamente inserire un'altra colorazione all'interno della stessa parte della mia mesh il computer in quella parte della mesh mi andrà ad inserire una soprattutto se io in realtà regolo con il parametro strength beh in quella parte della mia mesh se prima c'era uno strato di colore e adesso ci passo nuovamente il pennello il computer mi andrà a calcolare alla fine una colorazione risultante dal mix del colore che c'era prima e del colore che ho impostato adesso per esempio andiamo a cancellare tutto velocemente mettiamo la strength a uno e lo weight a zero così cancelliamo tutto in un attimo se io coloro prima di rosso e poi con una strength più bassa abbassando il weight che è il weight che mi va effettivamente a regolare il colore con cui io dipingo beh in questa parte della mia mesh io avrò un colore risultante dalla media tra il colore che c'era prima e il colore che io sto spalmando adesso ovviamente se io faccio più passate dato che ho cambiato il colore utilizzando il comando weight andrò a sostituire totalmente al colore precedente il colore di adesso ma la cosa che vi interessa è che con l'opzione blend mix considerato il colore che c'è già all'interno della mia mesh considerando il colore che io vado ad inserire adesso il computer basandosi sulle strength mi andrà a rappresentare sulla mia mesh in quella parte della mia mesh il colore medio tra quello che c'era prima e quello che c'è adesso è quella di default è l'opzione che abbiamo visto finora se io per esempio da mix passo ad add il computer mi andrà a sommare ai weight che ho già dipinto gli weight che vado a dipingere adesso quindi agli weight che ho già dipinto adesso il computer mi sta sommando quelli che dipingo adesso se io ne dipingo di bassi per esempio facciamo un esempio pratico torniamo a mix per lavorare come sempre strength a 1 così cancelliamo bene noi abbiamo visto che weight a 0 è una specie di gomma weight a 0 0 1 anzi vedete a punto 1 mi va a colorare di azzurrino d'accordo con mix se io prima coloro di rosso e poi coloro di azzurrino in questo punto in base alla strength il computer mi farà un mix tra il colore che c'era prima quindi rosso e il colore che inserisco adesso quindi l'azzurrino dato che adesso la strength è 1 il punto esatto in cui applicato il cursore diventa totalmente azzurrino la cosa che vi interessa è l'opzione add con l'opzione add lui mi andrà a sommare il valore che inserisco adesso quindi il valore azzurrino ai valori precedenti quindi se io applico nella parte gialla il valore azzurrino lui mi andrà a sommare al valore del giallo quindi circa un punto 7 il valore dell'azzurrino quindi un punto 1 quindi nel punto dove io vado a cliccarlo otterrò punto 7 più punto 1 un punto 8 e ne verrà fuori una specie di arancione come volevo assi dimostrare perché ho inserito il comando add quindi mix mi mix il colore che inserisco adesso è quello che c'era prima add somma il valore che c'era prima quello che vado ad inserire adesso quale valore vado ad inserire adesso osservasi il parametro weight il contrario invece subtract subtract invece mi va a prendere il colore che c'era prima e mi va a sottrare il colore che vado ad inserire adesso per esempio questa zona è rossa adesso il mio weight è punto 1 rosso vuol dire weight 1 allora con l'opzione di blend subtract lui prenderà il colore che c'era prima cioè il rosso che vuol dire 1 mi sottrarà il colore che vado ad inserire adesso cioè il valore punto 1 e otterrà un punto 9 che è uguale a un arancione rossastro infatti con l'opzione subtract cliccando cliccando vado a far abbassare in questa zona della mia mesh il valore della mesh c'è il valore dello weight per esempio in questa zona con add io vado a sommare nel punto in cui clicco un valore al valore che già è inserito nello weight un valore pari a punto 1 con add con subtract io invece di aggiungere al valore che già c'è un valore di punto 1 vado a sottrare al valore che già c'è un valore di punto 1 se io inserisco a weight 1 dovunque vado a cliccare il low weight si ridurrà di 1 di 1 quindi diventerà per forza blu perché si andrà a ridurre di 1 tuttavia io queste opzioni non le ho usate quasi mai trovo molto più uso quasi sempre l'opzione mid che è quella più utile ultima cosa che vi faccio notare quando andate in edit mode vicino all'oggetto mediante il quale siete entrati in edit mode vi appare l'iconcina dell'edit mode se ci cliccate l'iconcina scompare uscite dall'edit mode se vi sono più oggetti in cui entrare in edit mode no lo devo inserire separatamente voi entrate in edit mode e potete usare questi questi puntini vicino alle mesh per andare per passare dall'edit mode di un oggetto a un altro quindi vi trovate in edit mode del piano cliccando sul puntino vicino al cubo andate in edit mode del cubo volete tornare in edit mode del piano basta cliccare sul cerchietto vicino al piano a questo punto vi appare il cerchietto vicino al cubo e cliccate e in questo modo andate in edit mode del cubo volete andare in edit mode del piano basta cliccare sul cerchietto vicino l'oggetto in cui siete in edit mode di cui siete in edit mode avrà vicino ad esso non un puntino ma una ma appunto l'icona dell'edit mode Tutti gli oggetti per cui potete entrare in Edit Mode avranno vicino un puntino Per il Weight Paint Mode è la stessa cosa Se io mi trovo in Weight Paint Mode del piano Vicino al piano ci sarà l'icona del Weight Paint E vicino al cubo ci sarà un puntino Posso usare questo puntino per andare in Weight Paint del cubo Vedete posso switchare usando questi puntini Dalla Light Mode del piano al cubo e viceversa Vicino all'oggetto di cui sono in Weight Paint Avrò vicino ad esso una piccola icona Che è appunto quella dello Weight Paint Se io vi faccio notare in particolare Che se provate a dipingere in Weight Paint sul cubo Avete non poche difficoltà Non potete dipingere come preferite Ricordatevi infatti che lo Weight Paint Si basa sull'attribuzione di un valore numerico Ai vertici Non su un'effettiva pittura Dato che il cubo ha solo 8 vertici Che sono appunto relativamente pochi Dove il computer Non può andare a dipingere tranquillamente Perché lui può andare a dipingere solo dove ci sono i vertici In altre parole Il computer ha bisogno dei vertici Per dipingere Se ci sono pochi vertici Faticate a dipingere tranquillamente Per esempio non potete dipingere in mezzo a una faccia del cubo Anche se ci provate Non potete dipingere in mezzo a una faccia del cubo Perché in mezzo a una faccia del cubo non ci sono vertici In un cubo potete dipingere appunto solo dove ci sono vertici Così come nel piano Solo che nel piano Solo che il piano prima l'abbiamo suddiviso Perciò nel piano i vertici sono tantissimi E possiamo dipingere tranquillamente Nel cubo i vertici sono solo 8 Perciò magari abbiamo qualche piccola difficoltà a dipingere Non possiamo dipingere al centro di una faccia Perché all'interno del cubo Non ci sono sufficienti vertici Per poter dipingere Cioè al centro di una faccia di un cubo Non ci sono vertici Quindi al centro di una faccia Il computer non può applicare un valore numerico ai vertici Perché? Perché al centro della faccia di vertici non ci sono Detto questo Vi faccio notare che dall'outliner Avete anche Dall'outliner potete monitorare anche i vertex groups Perché dall'outliner voi sapete che potete monitorare tutto Per esempio gli object data Ma anche i vertex groups Questo è molto importante Quindi abbiamo imparato Cos'è un gruppo di vertici E abbiamo imparato come utilizzare La modalità weight paint Per modificare il gruppo di vertici A parer mio Il weight paint è una modalità Veramente Molto utile Perché lo weight paint Vi permette di attribuire Valori numerici ai vertici E di modificarli come se fossero colori Quindi con la stessa facilità con cui potete dipingere su una tela Potete applicare un valore numerico da 0 a 1 A un singolo vertice di una singola mesh E così potete andare a creare gruppi di vertici infinitamente complessi Sappiate che qualsiasi Questo è importante Qualsiasi vertici che andate a dipingere Anche con valore 0,0,0,1 Quello entrerà comunque nel gruppo di vertici Solo i vertici completamente blu Con valore 0 Resteranno all'esterno del gruppo di vertici Ma se un vertice ha anche lo weight di 0,0,1 Questo entrerà comunque all'interno del gruppo di vertici Di qualunque colore sia colorato Anche se di un azzurro scuro Entrerà comunque nel gruppo di vertici Per essere nel di fuori Deve essere perfettamente blu In secondo luogo Altra cosa importante da capire Ricordatevi che la differenza di colore Va solo a modificare Il peso di un vertice All'interno di un gruppo di vertici Quindi Quindi quel parametro Che precedentemente in un gruppo di vertici Andavate a regolare Da questa voce weight Ma ricordatevi La differenza di colore Vi non va ad influenzare Quindi se uno è un vertice rosso O uno è giallo Questo non cambia Se quel vertice è Nel gruppo di vertici oppure no Cambia solo il suo peso All'interno del gruppo di vertici stesso E questo è molto importante Ma se un vertice È anche di un azzurro scuro Entra comunque all'interno del gruppo di vertici Anche se ha lo weight molto basso In altre parole Lo weight paint Più che permettervi Di decidere velocemente Quali vertici Vi permette sì Di decidere velocemente Quali vertici Far entrare quali no In un gruppo di vertici Ma soprattutto Vi permette di gestire Gestire gli weight In modo veramente Molto comodo E semplice E semplice Cioè Voi In Elite mode Prima Per regolare le dimensioni Il weight Di un determinato vertice All'interno di un gruppo di vertici Prima di inserirlo Dovevate cambiare parametricamente Il valore weight Invece no Con lo weight paint È facilissimo Potete cambiare Il valore weight In un attimo Ed è proprio questo La cosa bella Effettivamente Dello weight Ricordatevi però Che la differenza di colori Va ad influire solo Va ad influire solo Sul peso Di quel determinato vertice Nel gruppo di vertici Ma non va ad influire Sul fatto che quel vertice Sia all'interno del gruppo di vertici Oppure no Il colore con cui è colorato Ovviamente Se un vertice è completamente blu Vuol dire che lo weight è zero E perciò sta al di fuori Del gruppo di vertici Spero di essermi spiegato Infine Ultimo concetto Di cui parliamo oggi E poi Chiudiamo Gli shape key Gli shape keys Vediamo Un paio di cose Interessanti Cliccando su più Potete inserire Una shape key Uno shape key Praticamente Sarebbe un dato Relativo alla forma Della vostra mesh Alla sua struttura Praticamente sarebbe Uno shape key Contiene Il numero E la posizione Di ogni singolo vertice Il primo shape key Il primo shape key Che andate ad inserire È uno shape key speciale Si chiama basis E va a contenere le informazioni iniziali sulla vostra mesh Cioè va ad informare il computer sulla forma iniziale che la mesh ha E per questo si chiama appunto basis base Andiamo ad inserire un altro gruppo di vertici Andiamolo a Un altro shape key Scusate Andiamo ad inserire un altro shape key Chiamiamolo per esempio Che ne so Altezza Della faccia Della faccia Superiore Adesso andiamo In edit mode Prendiamo la faccia superiore E grabiamola verso l'alto Essendo sicuri Di avere quello shape key Attivo Quindi dobbiamo essere assolutamente certi Che quello shape key Sia selezionato Se quello shape key non è selezionato Il comando Quello che facciamo non funzionerà Quando uscite dall'edit mode Vedete che la vostra modifica è annullata Perché non ha funzionato Al contrario Quella modifica che avete fatta sul cubo Dato che avevate Lo shape key Altezza della faccia superiore Selezionato Beh Quella modifica È stata salvata All'interno dello shape key Che adesso Il valore dello shape key È a zero Però aumentando Potete andare a cambiare Quanto è potente L'applicazione Di quella Posete andare a cambiare Quanto è potente L'applicazione Di quella modifica Detto in parole povere Se Voi avete salvato La modifica Che avete fatto al cubo All'interno Di questo shape key Come avete fatto A salvare all'interno Semplicemente Avete seguito la modifica Con lo shape key Selezionato Così facendo Adesso Potete andare a cambiare Questo valore Se è a zero La modifica Che avete salvato All'interno di Altezza della faccia superiore È assente Se lo shape key È a uno La modifica Che avete inserito In altezza della faccia superiore È presente Andando a cambiare Questo valore Potete regolare Tranquillamente L'altezza della faccia superiore Oppure Qui vi dice Relativo a cosa Alla base Cioè Noi adesso Gli stiamo dicendo Potete intanto Regolare Il range minimo E il range massimo Cioè il valore minimo E il valore massimo Che potete inserire sopra Se inserite Meno punto uno Voi potete far scendere Il valore value Sotto Sotto lo zero In questo modo Lui andrà ad apportare Una modifica Contraria Rispetto a quella Che avete eseguito In edit mode Qual è la modifica Contraria Blender lo capisce Da solo In questo caso L'abbassamento Nella faccia superiore Potete andare Anche a cambiare Il range massimo Per esempio Mettendolo a due Lui effettuerà Una modifica Uguale A quella che voi Avete salvato All'interno De altezza Della faccia superiore Però due volte più forte Quindi quella modifica Praticamente La effettuerà In modo due volte più forte Io personalmente Per evitare problemi Vi consiglio sempre Di lasciare Il range minimo E massimo A valore di default Perché vi permetto Perché Sinceramente Io penso Quindi zero e uno Perché penso che Altrimenti Quando il computer Capisce da solo La Qual è la modifica Magari a volte Potete avere Qualche brutta sorpresa Invece Io personalmente Penso che Lasciandoli Ai valori di default Non siano mai sorprese Poi Con vertex groups Potete decidere Di applicare Quella modifica Solo a un determinato Gruppo di vertici Per esempio C'è un gruppo di vertici Lo chiamo Alto destra Per esempio Se voi andate In edit mode Con uno ship key Selezionato Voi andate In edit mode A vedere La forma Che ha il cubo Quando quello Ship key Si trova Alla massima potenza Basis Non è uno ship key Basis è un riferimento Cioè È uno ship key Di riferimento Che utilizzeranno Gli altri ship key A cui riferirsi Perché Altezza Basis Contenente Le informazioni Sulla forma iniziale Del cubo In altre parole Ora intanto Inseriamo questi due vertici Nel vertex group Alto destra In altre parole Il basis È il punto di riferimento Che utilizzeranno Tutti Gli altri ship key Scegliendo Il vertex group Alto destra Noi abbiamo Limitato Le modifiche Dello ship key A quei due vertici Infatti Noi sappiamo Che il Infatti Come vi avevo Già anticipato La maggior parte Delle volte I vertex groups Avranno Un'azione Discriminatoria Cioè Noi stiamo dicendo Al computer In questo momento Con vertex group Guarda Applica Questa modifica Solo Ai vertici Facenti parte Di questo gruppo Di vertici Se io per esempio Questo vertice Lo rimuovo A questo punto Lui Questa modifica Me la andrà Ad effettuare Solo Su Solo Su quell'unico Vertice Facente parte Del gruppo Di vertici Alto destra Cioè Questo Infatti Mi si alza Solo quel vertice Unendo Questi due Vertici Usando il comando J Evitiamo Di creare Una faccia Impossibile Matematicamente Perché prima Che unissimo Quei due vertici La faccia superiore Diventava tale Da non avere Più Tutti I I vertici Complanari Questo è impossibile Geometricamente Quindi quando Vedete Che una faccia Perde la Complanarità Dei vertici Finché Non impareremo A risolvere Usando il comando Triangulate Semplicemente Ad unire Quei vertici Con il comando J Qui Potete anche Con relative To Andare a scegliere Quale è Il Lo ship Key Di riferimento Che ovviamente È basis In altre parole Basis È un file Una parte Di blender Che va a contenere Tutti i dati Relativi al cubo Iniziale Perché Perché lo ship Key funziona E il computer Deve avere pure Da qualche altra parte I dati relativi Al cubo iniziale Se quei dati Relativi Non li diamo Lui non mi può Applicare lo ship Key Perché per effettuare Una modifica Su una mesh Deve avere anche presente Le opzioni relative Alla mesh iniziale Andiamo a creare Un altro ship Key Lo chiamiamo ad esempio Rotazione Rotazione Della faccia Laterale Sinistra Se adesso cambio il value Non succede niente Perché? Perché io all'interno Di questo ship Key Non ho ancora salvato Nessuna Non ho ancora salvato Nessuna Nessuna modifica Perché noi sappiamo Che all'interno Di uno ship Key Dobbiamo salvare All'interno Di esso Alcune modifiche Alla nostra Alla nostra mesh Perciò andiamo All'interno Della nostra mesh Selezioniamo Questa faccia E adesso andiamo A salvare Alcune modifiche In particolare In particolare La rotazione La rotazione Della faccia Sinistra All'interno Dello ship Key Rotazione Della faccia Sinistra Come facciamo A salvare Delle modifiche All'interno Dello ship Key Semplicemente Con esso Selezionato Con quello ship Key Selezionato Andiamo ad apportare Delle modifiche Alla nostra mesh In questo modo Ho portato Delle modifiche Alla nostra mesh Uscendo Dall'edit mode Adesso Le modifiche Che io ho appena Apportato Alla mia mesh Quindi ho Quotato una faccia Quella modifica È stata appena Salvata All'interno Di questo ship Key Così facendo Aumentando Il value Quella modifica Verrà applicata Posso utilizzare Più ship Key Contemporaneamente Posso decidere Di applicare Di applicare Quello ship Key Non a tutta la mesh Ma a solo Due vertici Per esempio Basso Sinistra Assign Bene Ora Per evitare Di avere Una faccia Con vertici Non complanari Colleghiamo Questi due Vertici Quindi Io adesso Con altezza Della faccia Superiore Applico Questa Modifica Alla mia mesh Che ho salvato All'interno Dello ship Key Andando a selezionare Un gruppo Di vertici La modifica Funzionerà Solo ed esclusivamente In relazione Al Al vertice Selezionare Ai vertici Facenti parte Del gruppo Di vertici Quindi in questo caso Solo a questo vertice Invece Con rotazione Della faccia Laterale Sinistra Io effettuo Questa modifica Sulla mia mesh Che però In realtà Dovrebbe agire Anche Su Questi due Vertici Però non lo fa Perché gli ho detto Che deve basarsi Solo Sui vertici Facenti parte Del gruppo Di vertici Basso Sinistra Per spostare Verso l'alto Nell'elenco Degli ship Key In alto In basso Basta usare Le opzioni Rotazione Della faccia Laterale Sinistra O altezza Scusate Basta utilizzare Le frecce In alto E in basso Per creare Un nuovo ship Key Basta usare Il tasto Più Per eliminarlo Basta premere Il tasto Meno Ricordatevi Lo ship Key Di riferimento Quindi lo ship Key Che contiene Tutti i dati Sulla mesh Iniziale Lo potete anche Rinominare Per esempio In dati Della mesh Iniziale Lo potete Rinominare Lo riconoscete Perché è l'unico Che non vi chiede Un value È uno ship Key di riferimento È l'unico Che non vi va a chiedere Dei dati C'è l'unico Che non vi va a chiedere Per esempio Un value Un range minimo Un range massimo O diverse groups O un relative to Quindi in altre parole Dati della mesh Iniziale È uno ship Key speciale È uno ship Key di riferimento Che contiene Le informazioni Sulla mesh Contenenti appunto La forma Della mesh Stessa E che la mesh Avrebbe Se tutti Gli ship Key Fossero Disattivati Il computer Ha bisogno Di uno ship Key di riferimento Che è sempre Il primo Che viene creato Quindi quando voi Inserite una nuova mesh Premete più Prima vi viene creato Uno ship Key di riferimento E poi è dal secondo Che create in poi Che potrete andare Ad inserire Dei Appunto Delle modifiche E dei valori In particolare Se io vado In edit mode Con Con l'opzione Dati Delle mesh Iniziali Ciò che io vado A salvare Esisterà All'interno Della mia mesh Anche se io Disattivo Tutti gli ship Key Perché l'ho Perché ho implementato Queste modifiche Proprio all'interno Della mia mesh Così com'è Rotazione Invece Andando Ad applicare Gli ship Key Li potete Disattivare Semplicemente Cambiando le spunte Io posso andare A Modificare Il mio risultato Ricordatevi Lo ship Key di riferimento Deve essere Sempre il primo Quindi lo ship Key Che contiene I dati Della mesh All'inizio Deve essere Il primo Ship Key Se non è così Si creano Dei problemi Il risultato Non è quello Che volete Quindi Lo ship Key di riferimento Quello che non Mi chiede un valio Quello che non Mi chiede un range Minimo Un range Massimo Quello che non Mi chiede un Gruppo di vertici Quello che non Mi chiede Relative to Quello è Di riferimento E dovete Sempre lasciarlo All'inizio Lo dovete Ignorare Dovete lavorare Su tutti gli altri Ship Vedete Io posso andare A cambiare Il modo in cui Applico Un editing Con i value Avete un Anteprima dei value Modificabile In tempo reale Anche accanto Al nome Dello ship Key Quindi Ricapitoliamo Cosa abbiamo Scoperto oggi Apriamo un nuovo File Blender Questo non lo salvo Perché non penso Serva Cosa abbiamo Scoperto oggi Abbiamo scoperto Come usare Come creare Dal pannello Properties Dei gruppi Di vertici Semplicemente Selezionandoli Ed inserendoli Nel gruppo Con assign E questa Probabilmente È la cosa più importante Della lezione Poi abbiamo Imparato Come andare A cambiare I valori Weight Dei gruppi Di vertici Utilizzando Una nuova Modalità Della edit mode Chiamata Modalità Weight paint Potete cambiare Le modalità Della edit mode Della viewport Scusate Anche con il edit mode Invece Della viewport Siamo andati A scoprire Una nuova modalità Della viewport Che è la modalità Weight paint Potete andare A switchare Nelle varie modalità Della vostra viewport Premendo Control tab Inoltre Quindi Control tab Weight paint E potete andare A cambiare I valori Weight Di vostri vertici Quindi Lavorare Con i gruppi Di vertici Come se fossero Pittura Abbiamo scoperto Che con gli shipkey Prima dobbiamo creare Uno shipkey Di riferimento Uno shipkey Di base Che il computer Utilizzerà Come punto di riferimento Per tutti i successivi E che Dobbiamo solo Rinominare Ma dobbiamo sempre Lasciare E tenerlo sempre Per primo Un nome Potrebbe essere Dati iniziali Io ho l'abitudine Di rinominarlo O si O Per esempio In inglese Starting Data Poi Invece Qualunque altro Shipkey Che andate a creare Dopo anche Averlo Rinominato Rot Per esempio Che sta per rotazione Dopo averlo nominato La prima cosa Che dovete fare Per lavorare Su uno shipkey È inserire All'interno di esso Delle informazioni Su come modificare La mesh Quindi salvare All'interno di esso Delle informazioni Di editing Per farlo Selezionatelo Andate in Edit mode Editate La vostra Mesh Quindi 3 3 Seleziona La faccia Superiore E R E Editate La vostra Mesh Quando uscite Della edit mode Se mentre vi eravate Avete Quello shipkey Selezionato Beh Quando uscite Dalla edit mode Le modifiche Che avete fatto Alla vostra mesh Sono state salvate All'interno di esso In questo modo Cambiando l'opzione value Potete andare In modo molto semplice A modificare Con quanta forza Il computer Applicherà Quella modifica Alla vostra mesh Potete volendo Anche andare Ad applicare Una forza Inferiore a zero Quindi dicendo Al computer Di applicare Un'azione contraria O una forza Superiore ad uno Quindi di applicare Al computer Una trasformazione Più marcata Rispetto a quella Che avete effettuato Voi nel edit mode Potete dire al computer Di lavorare Con gli shipkey Solo all'interno Solo Di lavorare Con gli shipkey Modificando Solo i vertici Che fanno parte Di un determinato Gruppo di vertici E quindi Di applicare La modifica Dello shipkey Però Tutti i vertici Che si trovano Al di fuori Del gruppo di vertici Iniziali Beh Se inserite Un gruppo di vertici Verranno lasciati Al di fuori Quindi con Veltas group Potete dire Attenzione Applica questa modifica Solo a questi vertici Infine con Relative 2 Li potete dire Qual è lo shipkey Di riferimento Continente le informazioni Dei dati iniziali Per la qualcosa Per esempio Li potete dire Guarda Tutti devi basare Sul L'opzione Sullo shipkey Starting data Che è appunto Lo shipkey Contenente Le informazioni Iniziali Della vostra Mesh Gli shipkey Che contengono Le informazioni Iniziali Sono shipkey Speciali Perché sono Gli shipkey Di riferimento Non mi chiedono Un baglio Né un range Minimo Né un range Massimo Né un gruppo Di vertici Né un altro Shipkey Di riferimento Spero Che questa lezione Anche questo Velocissimo Ricapitolo Che vi ho fatto Adesso Possa Esservi stato Utile Vi assicuro Che in futuro Useremo Queste opzioni E non vi è una sola E Sulla maggior parte Di ciò Che abbiamo detto Oggi Ci torneremo Applicandolo In relazione All'animazione Per gli shipkey O per i nodi geometrici Per quanto riguarda Invece Gli Il weight paint Che appunto Andremo ad usare Per quanto riguarda I nodi geometrici Unica Cosa che non vi ho detto L'unicissima cosa Che vi dovevo dire Non vi ho detto È la seguente E poi terminiamo Andando a A lavorare Con il weight paint Andate a fare Un disegno Beh Con weights Potete andare A cliccare su Invert E i vostri pesi Verranno invertiti Cioè Dovunque Il peso sia 0 Esso diventerà 1 E dovunque Esso sia 1 Esso diventerà 0 Poi Vabbè Ci sono altre Opzioni Clear Per esempio Mirror Vi specchia Il vostro disegno Erano solo Le altre due cose Che vi dovevo dire Invert E Mirror Che vi specchia Il disegno Che tra virgolette Avete dipinto Sopra La vostra Mesh Spero Che questa lezione Vi sia stata utile Soprattutto Spero Che vi abbiano Affascinato Questi argomenti Perché abbiamo scoperto Come lavorare Con il weight paint Che secondo me È qualcosa di un po' Diverso Meno noioso Delle solite cose Vertici Facce Estrusioni Il weight paint È più interessante E io sinceramente Trovo molto affascinanti Anche gli ship key Per la qualcosa Vi saluto Pongo fine a questa lezione E ci vediamo Nella prossima lezione La lezione 15 In cui inizieremo Niente meno Che il nostro percorso Attraverso il mondo Dei modificatori A presto Vi aspetto Che il nostro percorso